Dal primo marzo all'Università di Teramo si torna a frequentare in presenza. L'Ateneo Teramano assicura una perfetta organizzazione sulle norme anti-Covid. Le 62 aule, che presto si rianimeranno con studenti e docenti, sono comunque tutte attrezzate per collegamenti online e garantire così la didattica anche a chi ha difficoltà di spostamento. Rettore, quando si tornerà in presenza e come? All'inizio del secondo semestre, quindi la data ufficiale è il primo marzo però ci sono alcuni corsi di laurea che inizieranno prima. Si tornerà ufficialmente in modalità mista, però la modalità mista per quanto riguarda l'Università di Teramo verrà declinata quasi completamente in presenza perché la nostra organizzazione, consentitemi di ringraziare la squadra, i presidi, tutti i collaboratori perché hanno fatto un lavoro veramente encomiabile, la capienza delle nostre aule, gli investimenti che abbiamo fatto, ci consentirà di essere praticamente quasi al 100% in presenza. Ovviamente chi non può e ha difficoltà a venire, in tutte le aule ci sarà possibilità di andare online. Però l'invito è quello di ricominciare in presenza. Tra l'altro le porte dell'Università non si sono mai chiuse, le attività laboratoriali sono andate avanti, la biblioteca ha continuato a lavorare, quindi il termine ripresa forse non è giusto completamente, però noi riprendiamo le lezioni in presenza. Ed è il turno del magnifico Rettore dell'Università di Teramo, oggi alla Presidenza del CRUA, il Comitato di Coordinamento Regionale delle Università Abruzzesi, un organismo che ha il potere di vagliare le decisioni della Regione sul comparto universitario. Nella prima riunione da Presidente, il Rettore Mastrocola ha chiesto che le università vengano inserite nel piano delle vaccinazioni al pari delle scuole. Mettere sempre di più al centro delle attività, ovviamente di ricerca e di formazione della Regione, il sistema universitario regionale, perché l'interazione porta sempre degli ottimi frutti.